Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, bondi, assuntigli due omp e femmine che vanno e incontri dal rosario, ma stentano d'accordo e ci facciamo fare in davanti. Di buon che io ho una brave nonne, sicché lui si chiapette al bevi e allora io vanno a lavorare il nonne, nonne, ho detto sempre a lui di prea che si fai aiutare di Dio, è la nonne e dice, no tu as di fevelai all'om di Dio, tu as di fevelai a Dio dal tuo omp. Un dia arriva lì del nonne e dice, Dio c'è brutte giornate quai vuoi. Biot, che quando tu sei sposato ti hanno detto, ti avevi detto che due dì sono tuoi tessette mani, due sono dall'om e tre sono di Dio. Quando va all'Agnasi, hai detto che frasi che le bielche o le mandate a memoria anche non è facile di tenere a me. Se tu as vuoi di stare bene, chi ha piacere che il vengo? Buone giornate e buone vite.